Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è giovedì 2 dicembre 2021, eccoci pronti per la nostra rassegna stampa, come tutti i giorni apriremo le pagine del resto del Carlino e del Corriere Adriatico, cominciamo però con il santo del giorno e vediamo che oggi si festeggia una santa particolare, una santa martire vergine che è vissuta a Roma ai tempi dell'imperatore Giuliano, era nata a Roma, fattasi cristiana, fu imprigionata con tutta la sua famiglia da Aproniano che era il governatore appunto della città, aveva perso un occhio Aproniano e di questo colpevolizzava i cristiani, Bibiana fu imprigionata e fu martirizzata insieme a tutta la sua famiglia, lei fu uccisa a vergate a colpi di frustata con flagelli piombati, fu molto venerata poi dai primi cristiani. Diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo e vediamo come il tempo si è guastato rispetto ai giorni scorsi, le previsioni annunciano maltempo su tutta la regione con nubi e piogge diffuse in intensificazioni nel pomeriggio, le temperature sono in calo e usciranno tra gli 8 e i 14 gradi. Ed ora diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani a partire dal resto del Carlino questa mattina. Centri vaccinali aperti per 12 ore, è appunto il titolo di apertura. I contagi schizzano verso l'alto, l'Asur dunque corre ai ripari. Vogliamo garantire 2.700 somministrazioni al giorno, questo è l'impegno, comunque le difficoltà non mancano. Soprattutto non mancano perché c'è sempre la solita confusione tra prenotati e non prenotati. E poi abbiamo un articolo che riguarda il ritorno del Covid quando le persone sono vaccinate, quando il Covid colpisce due volte la ricaduta di 61 pesaresi. E poi il problema delle guardie mediche che resta un po' l'emergenza per tutto il mese di dicembre, manca il personale per espletare questo servizio così importante. C'è gente che ancora crede nei maghi e nelle fattucchiere. Ebbene, quattro vittime sono state oggetto di un raggiro da parte di una fattucchiera, la quale ha spillato a loro 100.000 euro in monili d'oro. E poi abbiamo il problema del Mew Disco Dinner di Marotta, dove il magistrato ha assunto un provvedimento incisivo. Per quanto riguarda Fano abbiamo l'ultimatum di Don Marco Polverari, il quale si è arrabbiato alquanto per il modo in cui è stato trattato dall'amministrazione comunale e adesso il sacerdote dice o il comune mi aiuta oppure non riesco più ad aprire il presepio, il grande presepio di Palazzo Fabri. Per lo sport un richiamo sul resto del Carlino, la VL contro Varese è il match dei debutti. Saranno molti giocatori che giocheranno per la prima volta. Apriamo dunque le pagine del resto del Carlino e vediamo subito l'articolo che riguarda i nuovi infetti, quelli che erano già guariti e che poi si sono infettati un'altra volta. Sono 61, il resto del Carlino li definisce dannati. Dall'inizio della pandemia tanti sono stati pesaresi che hanno avuto una ricaduta dopo essersi negativizzati, anche per colpa delle varianti soprattutto. Una possibilità che dunque esiste anche se non molto frequente, diciamo così abbastanza rara, pari allo 0,2%, una percentuale questa che raddoppia però se gli anziani con più di 80 anni e nella fascia di 25 e 39 anni si ammalano. C'è anche chi ha preso due volte due diverse varianti del virus, mentre va anche detto che non esistono per fortuna in tutte le marche reinfezioni che riguardano i bambini da 0 a 5 anni e quanto emerge dai dati sui reinfettati nel nostro territorio, dati che vengono diffusi dall'Asur. Vaccini, l'Asur accelera, ab aperti 12 ore al giorno. I contagi schizzano, decisa una forte intensificazione delle sedute ed ecco i calendari per tutto il mese di dicembre dei centri di Pesaro, Fano e Urbino. Il nuovo calendario, riferito alle aperture dei tre siti vaccinali, è partito già da ieri. L'ex-Aristò di Pesaro, di Via Gagarin, oggi sarà aperto solo il pomeriggio, dalle 14 alle 20. Da venerdì a martedì 7 dicembre, assieme a giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11, sarà aperto dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 20, dunque anche al mattino. Al sito di Fano, nel centro Codma, oggi gli orari sono dalle 8 alle 13 e domani dalle 14 alle 20. Da sabato 4, poi a martedì 7, il sito sarà aperto tutto il giorno dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20. Infine a Urbino, nel sito della Bocciofila, si parte da venerdì solo il pomeriggio e sabato tutto il giorno, mentre domenica, lunedì e mercoledì prossimi rimarrà aperto dalle 8 alle 13. E' come se ci avessero preso a schiaffi e la rabbia dei fan di Valentino Rossi a Tavuglia dopo la rimozione dello stendardo. Pensate quanto ci tenevano i residenti di Tavuglia a manifestare il loro attaccamento a Valentino Rossi, appendendo un grande striscione, veramente grande, sulle mura della città. Ora spariscono anche le foto, Mast di Tavuglia, prese delle campioni. Sono frivolezze, ammettono i residenti, ma la volontà di noi che amiamo Vale deve essere rispettata. E sembra che la questione si avvii alla risoluzione, grazie ad un incontro che il sindaco Paolucci ha avuto con la sovrintendenza e scoppia dunque la pace, dice il resto del Carlino. Lo striscione, grazie Vale, sarà appeso alle gru e non alle mura. Le Belle Arti hanno finalmente chiamato la prima cittadina, le hanno telefonato, le hanno concesso questa telefonata. La prima cittadina, ora si dice fiduciosa, colloquio proficuo, ha commentato, troveremo un accordo. Insomma, lei prima ha parlato con Simona Guida, che è la funzionaria della sovrintendenza, e poi ha parlato addirittura con Cecilia Carlo Rosi, che è la sovrintendente proprio per l'archeologia, le Belle Arti e il paesaggio delle province di Pesaro, Urbino ed Ancona, e sembra che insomma un accomodamento si possa almeno fare. Ancora altre notizie sul resto del Carlino. Pagano 100 mila euro contro il Malocchio. Truffatori nella rete dei carabinieri della stazione di Pesaro denunciata una fattucchiera che si è fatta consegnare gli ori di famiglia. Sembra strano nell'era del progresso, quando lo sviluppo tecnologico, quando ormai la maturità delle persone, la loro scolarizzazione dovrebbero sconfinare, dovrebbero far sì che si sconfini, non si sconfini più, anzi, nel mito, nelle credenze un po' esoteriche, invece ci ricascano sempre. Il caso più clamoroso è quello di quattro pesaresi che hanno consegnato monili in oro di famiglia, anelli, bracciali, collane, per un valore di circa 100 mila euro a una fattucchiera che ha fatto loro credere di essere presi dal Malocchio addirittura. E poi c'è un altro caso, i carabinieri di Pesaro hanno raccolto un'altra denuncia di un pesarese di 45 anni che ha presentato una querela per essere stato truffato su Instagram. Qui comparivano inserzioni per l'acquisto di capi firmati a prezzi molto bassi. Ebbè i carabinieri hanno scoperto che alle spalle c'era una vera organizzazione composta da sei persone, tre uomini e tre donne, tutti di bari e pluri pregiudicati di età compresa tra i 68 e i 36 anni. Anche qui la truffa è andata a segno. Compie 90 anni e non li dimostra. Chi è? È il motoclub Benelli, fondato a Pesaro nel 1931. E tra i primi quattro sodalizi affigliati alla federazione, tra i soci c'è Valentino, Graziano Rossi, una storia gloriosa. Ebbene sabato prossimo si festeggiano i 90 anni del motoclub Benelli. Il secondo sodalizio sportivo nato nella città, il primo è quello della polisportiva Vis, che inglobava anche il nuoto allora, quando è stata fondata. Quindi sono arrivati i motori con l'avvento della Benelli e tutta la passione che ha coinvolto tanti pesaresi verso il motociclismo. Giriamo ancora la pagina del resto del Carlino, siamo sulla pagina di Fano e vediamo l'articolo che riguarda Don Marco Polverari, parroco di San Marco e il sacerdote dell'ospedale. Se il Comune non mi dà una mano, dice Don Marco, non apro il presepe di San Marco, l'out-out del sacerdote. L'amministrazione mi deve garantire una persona, almeno per il controllo del Green Pass e il distanziamento. Non posso fare tutto io, dice onestamente il sacerdote. Intanto domenica scorsa cinque Pullman sono arrivati addirittura da Mantova, attratti da questa grandiosità della bellezza del presepe che ha realizzato Don Marco. E poi abbiamo la presentazione di un libro a fondo pagina sul resto del Carlino, è un libro scritto da Gianni Boiani che ritrae un po' la storia del campo sportivo e della società dei carissimi. Storie di campioni di ieri e di oggi e questa è la fotografia, la bella fotografia, la bella fotografia della copertina del libro scritto appunto da Boiani. Minorenni contro mano, folle in seguimento, il fatto di cronaca principale che si evidenzia da Fano e che si è verificato nella giornata di ieri. A dire la verità non è partito da Fano, è partito dall'entroterra, poi si è concluso nella città della fortuna. Minorenni scappano dopo aver rubato un'auto, volevano compiere un furto, una rapina, scappano perché sono stati inseguiti dagli uomini del commissariato, fanno una gincana, invadono sensi vietati, percorrono via palazzi in senso vietato, poi alla fine vengono raggiunti nei pressi della liscia a Fano, ma tutto percorso ad alta velocità con il rischio di provocare brutti incidenti. La volante li ha bloccati, all'interno dell'auto sono stati individuati due minori, uno residente a Fano e l'altro fuori provincia, ma ce n'era anche un terzo che è riuscito a far perdere le sue tracce. Due sono stranieri, vengono fermati e dovranno spiegare molte cose sul loro comportamento. Una nuova tegola sulle Miu, il questore ferma la musica. È stato decretata una chiusura di 20 giorni dopo l'episodio avvenuto tra sabato e domenica, che ha portato all'arresto di un diciannovenne che aveva ferito tre carabinieri e due vigili. Aveva dato in escandescenze dopo che voleva rientrare, dopo l'orario di chiusura, nella discoteca. Il titolare reagisce di fronte a questo provvedimento del giudice, così ci ammazzano, dice, abbiamo già venduto online numerosi biglietti per il weekend, ma la chiusura ci stronca ogni attività. E poi abbiamo una nuova accusa nei confronti dell'imprenditore della Profilglas di Fano. L'indagine coinvolge il patron ed è partita dalla vicenda della morte di un operaio. La richiesta del PM Cigliola è stata di un anno di reclusione, attesa dunque per la sentenza. Un altro processo contro il patron della Profilglas, questa volta accusato di aver commesso reati fiscali, in quanto la vittima di questo incidente sul lavoro non figurava dipendente di una ditta a cui la Profilgl aveva commissionato un servizio, ma risulterebbe, secondo l'accusa, un dipendente della ditta stessa. Ceriamo ancora le pagine. Siamo a Monteschiantello, in realtà siamo a San Costanzo, dove i residenti reagiscono contro l'ampliamento della discarica di Monteschiantello. C'è un coro di no per questo provvedimento, dato che Monteschiantello dovrebbe diventare l'unica discarica di tutta la provincia, ma in questo caso ovviamente i disagi lì sopportano chi si trova a stretto contatto con questo impianto e il depreciamento poi di tutte le strutture, comprese le case. A Urbino un Natale in un programma ricchissimo di eventi. Lo illustra Elisabetta Foschi, che svela il lungo elenco delle iniziative. La prudenza caratterizza anche l'annuncio legato alla situazione pandemica. Ad aprire le festività ad Urbino saranno gli eventi per la giornata della disabilità domani e l'accensione dell'albero di Natale delle luminarie sabato alle ore 18. Tornerà anche la festa del Duca d'inverno. Mercoledì 15 partiranno le proiezioni multimediali in Piazza della Repubblica e oltre a ciò tra gli eventi in programma ci sono mostre e iniziative negli oratori, nel Museo Albani, concerti, saggi, tra cui anche una esibizione a Palazzo Ducale e una al Pala Carneroli, tombole per bambini ed escape room, castagne e vin brulè con i gruppi scout e avi. Insomma, tante tante iniziative. E i mercatini saranno lungo corso Garibaldi dalle 9 alle 20 e qui c'è anche il calendario in cui verranno allestiti. Urbino mangia il maestro Renato Bruscaglia, da sabato mostra sull'incisore Urbinate non solo interprete della cultura grafica ma anche un attivo protagonista della scena culturale. Apriamo ora il Corriere Adriatico. Sulla prima pagina vediamo il titolo che si riferisce alla didattica a distanza negli istituti scolastici. Si farà così, regola per regola. Ecco l'aggiustamento voluto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi per quarantene e tracciamento. I presidi reagiscono a una situazione kafkiana, quella che stiamo vivendo, quando invece occorrono chiarezza e semplificazioni. Invece c'è tanta tanta confusione perché le direttive, le diversità di quello che succede si accavallano giorno per giorno. La fotonotizia è dedicata ad una violenza di genere, violentata l'ex e la minaccia, l'uomo arrestato dalla squadra mobile. E poi le tre notizie a centropagina. Il malocchio per truffare gli anziani. Abbiamo visto la notizia già pubblicata sul resto del Carlino. Minorenni rubano auto presi a Fano e per il Miu di Marotta 20 giorni di chiusura. Apriamo subito il Corriere Adriatico per vedere la situazione della pandemia. Abbiamo qui un grafico che riguarda l'andamento delle vaccinazioni nei mesi di ottobre e novembre. Si era partiti il 12 con 3.748 vaccinazioni e si arriva ora al 30 di novembre con 11.658. Vedete l'escalation delle vaccinazioni e come il grafico aumenta sempre di più. Richiami in sette giorni svettano a quota 46.000, ovvero 18 in prima linea. Nel primo giorno utile registrate quasi 16.000 prenotazioni alle 18.00. Accelerano le vaccinazioni ma le prime dose restano sempre indietro. Giriamo il giornale e vediamo sempre un articolo sulla sanità. Questo riguarda direttamente Pesaro. Per la Guardia Medica un'odissea senza fine. Le feste sono un rebus. Pochi i dottori disponibili e turni ancora scoperti. Il distretto è in sofferenza. Il servizio va rimodulato. Dicembre si apre così come si era chiuso novembre. Non c'è nessun miglioramento al momento almeno. Continua dunque l'allarmante carenza di medici, di Guardia Medica a Pesaro e sul territorio. Pronto l'ennesimo piano di rimodulazione e copertura dei turni per la continuità assistenziale è valido per tutto il mese di dicembre, festività comprese. Nell'ultimo documento, a firma di Elisabetta Esposto, che è la direttrice del distretto sanitario di Pesaro, è riportato l'attuale numero dei medici guardisti rimasti in servizio. Sono solo sette, di cui quattro sono medici titolari fissi e gli altri sono avventizi. Dottori e infermieri al collasso, regioni, l'ascolto è finito. Agisci è l'appello della CGL, espresso da Roberto Rossini, che è il segretario provinciale, e Valeria Sciumbata, che è l'addetta alla funzione pubblica. Salta Martini, l'ultimo incontro risale all'anno scorso, novembre 2020, chiedono insistentemente i sindacati un incontro con l'assessore regionale alla sanità, ma questo ancora non è stato concesso, chiedono risposte non per il sindacato, ma per i lavoratori, questi rappresentanti appunto degli stessi. E qui abbiamo l'articolo che riguarda il caso di violenza, violentata nell'ex locale dove lavorano. Se mi denunci, ha detto il violentatore, ti faccio ammazzare addirittura. Arrestato l'uomo, il quale nega gli addebiti. La donna ha raccontato alla polizia una serie di minacce e di abusi. Gli vengono contestati episodi di soprafazione, abusi sessuali. Avrebbe stuprato la sua ex al ristorante dove entrambi lavorano. L'avrebbe presa per i polsi, strappato le mutandine, è costretta a subire un rapporto con la forza vicino al congelatore. Ebbene, sono queste le accuse che vengono espresse nei confronti di questo uomo, un 47enne pesarese, per il quale è scattata la misura cautelare in carcere per violenza sessuale e lesioni, ma lui nega tutto. Gli sgambatoi sono abbandonati, ma ho un piano contro il degrado. Il consigliere Redaelli di Forza Italia ha presentato un report all'amministrazione per risolvere questo problema. Poi abbiamo il futuro della provincia. Il 18 dicembre ci sarà un nuovo consiglio provinciale, e saranno sostituiti i consiglieri, ma rimarrà il presidente Giuseppe Paolini. Perché rimarrà il presidente? Perché c'è una diversificazione tra le durate dei mandati dei consiglieri e quella del presidente Paolini, in carica dal 2018. Per lui dunque ancora il mandato non è scaduto, lo scadrà il prossimo anno. Saranno invece chiamati al voto sindaci e consiglieri dei comuni per eleggere i nuovi consiglieri. Come sappiamo i nuovi consiglieri non saranno più eletti dai cittadini, ma dopo la riforma che ha un po' diminuito l'importanza, l'incidenza delle province a livello amministrativo, questo compito spetta ai consigli comunali. Giriamo ancora la pagina sul Corriere Adriatico. Saltiamo un po' l'articolo che riguarda il Malocchio, di cui abbiamo parlato, ma di cui il Corriere fa un'ampia relazione. Ci fermiamo un attimo sulla Vallefoglia per vedere come le iniziative di Natale vengono caratterizzate da questo bellissimo presepio che viene allestito a Talacchio. Ecco come nasce il grande presepio. L'allestimento inaugura l'8 dicembre e sarà visitabile fino al 9 gennaio. Poi abbiamo una novità per quanto riguarda l'abbinamento della lotteria. Vedete qui questi personaggi, sono tantissimi, sono circa 150 statue che raffigurano persone e animali. Ad Urbino, strade, fibra ottica e appalti locali. La CNA va in pressing su Gambini. Isolamento digitale stradale, un gap questo, in vista della candidatura della città ducale a Capitale Europea della Cultura. Si è tenuto un incontro dei vertici della CNA ducale con il primo cittadino Maurizio Gambini sui principali temi legati al territorio. Quali sono questi temi? sono le infrastrutture, i collegamenti, gli appalti pubblici e la riqualificazione del territorio. Sono temi generici ma poi durante l'incontro si è andato sul particolare. Sulla pagina di Fano, vediamo meglio il giornale, eccolo così, abbiamo un articolo di politica che riguarda un po' la contrapposizione tra due candidati alla segreteria fanese, abbiamo della Dora e tonti bambini, bandini. PD, dieci giorni per capire la rotta. Il congresso si svolgerà l'11 dicembre a Gimarra, nella nuova sede di quartiere che è stata inaugurata tra poco. Si decidano il segretario e l'assemblea con 40 delegati, stretta di mano tra della Dora di AIDEM e tonti bandini di futuro democratico. Comunque la tensione politica resta perché quando c'è contrapposizione, anche se all'interno di uno stesso partito c'è sempre una certa ansia, un certo affanno. Poi vediamo un'iniziativa natalizia Rocca Aperta, debutto con la danza, una serie di iniziative che verranno organizzate a partire la domenica prossima all'interno della Rocca Malatestiana che ospiterà eventi anche per tutto il periodo natalizio e si parte con la danza. E poi abbiamo Barbadoro che viene confermato come presidente dell'Associazione Amici Senza Frontiere. Un articolo molto particolareggiato sul Corriere Adriatico per quanto riguarda l'episodio di cronaca, minorenni in fuga sull'auto rubata, inseguimento folle ieri sera a ridosso del centro, fermati dalla polizia due giovani su un'agila sottratta a Vallefoglia. Per quanto riguarda Fossombrone si parla di punto dei prelievi attesa al gelo, cioè al freddo, non c'è un riparo per coloro che debbono appunto fare le vaccinazioni. Distanziamento come prova estrema all'ospedale di Fossombrone, occorre installare un piccolo gazebo almeno per ripararsi dal freddo e dalla pioggia. Tutti costretti ad aspettare all'esterno in qualsiasi situazione meteo nonostante la prenotazione. E poi l'articolo che riguarda il MIU. Ci risiamo. 20 giorni di stop, stangata del questore sulla disco. Sospensione dopo il sabato di violenza all'esterno del locale, culminato con un arresto, una denuncia e 5 feriti, l'epilogo di questa situazione. A Senigallia scatta il trasloco per le bancarelle. Il centro è una maxisola pedonale. Oggi il trasferimento del mercato per il primo evento natalizio, stress test per la sosta, occhio ai divieti. Insomma, il mercato c'è, attira gente, ma il problema dei parcheggi rimane sempre. Gli automobilisti sono stressati perché girare, girare e non trovare posto, certo, non depone per una calma pacifica. E a questo punto diamo un'occhiata anche allo sport. Vediamo che cosa attende alle squadre del campionato di calcio della provincia. Per la vis tonso con la vis gol di qualità e quantità, domenica scorsa a Pontedera, nel match contro il Montevarchi, ha messo a segno tonso il suo secondo prezioso timbro stagionale. Ci è mancato poco per portare a casa la vittoria, ha detto. Sono contento e sappiamo come la partita è finita in parità. Per quanto riguarda il fano calcio, l'alba, l'ex Fioretti, non sarà facile battervi, afferma. L'ex Fioretti è uno dei giocatori del Trastevere che incontrerà il fano calcio domenica prossima. Il Trastevere è primo in classifica. Nella trasferta romana il team di Capellacci va a caccia a punti preziosi. E poi per quanto riguarda il basket, VL domenica sarà la giornata dei debutti. Pesaro fa esordire Doron Lamb, mentre Varese lancia il nuovo play Marcus Kinn. Una sfida questa che può svoltare la stagione ad entrambe le squadre. Luca Banchi, il nuovo USA, scelto per la sua versatilità realizzatore che si può muovere su tutti i ruoli esterni. E qui vediamo la fotografia di Donald Lamb, 1,93 m per 95 kg di peso, 1,93 l'altezza, ha compiuto 30 anni il 6 novembre scorso. E vedremo un bel match a questo proposito, appunto, contro la nuova squadra. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno, questa sera alle 20.30 sul TG di Fano TV. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.